Vai, Virage! Vai, Virage! Vai, Virage! Vai! Ciao, io sono Virage. Io sono Michelle. Io mi chiamo Martin. Io sono Ayana. Mi chiamo Simran. Io sono Lucia. Tu sei il Diwali. Il Diwali è la festa indiana delle luci. Per me, il Diwali è la festa in cui viene celebrata la vittoria del bene contro il male. Durante la festa in tutto il paese vengono accese migliaia di luci. Io celebro il Diwali accendendo una candela e accendendo anche tante stelline. Il Diwali rappresenta il giorno in cui si esce dall'oscurità. E? È una festa nazionale, sì! Mostra e dimostra. Wow! È un vestito bellissimo. Sì, si tratta di un abito tradizionale indiano. La gonna si chiama lehenga. Questo si chiama kurta. È un abito tradizionale maschile che si indossa per il Diwali. In genere, si indossa per le cerimonie, come i matrimoni. Mi piace davvero tantissimo. Wow! La parte che preferisco è mangiare i dolci che prepara la mia mamma, come il Mitai e il Gulab Jamun. Una delle cose più belle del Diwali è mangiare il Mitai. Ti va di assaggiarlo? Sì, volentieri. Ecco qua. Ha un sapore molto dolce ed è molto soffice. È buonissimo. Sono tutti dolcetti tradizionali indiani. Questo è il Sun Pup D. E queste qui sono palline di cioccolata. Sono molto buoni. Mi ricordano il sapore dell'alba. Sono molto dolci, ma comunque buonissimi. Sì, sono tutti davvero squisiti. Wow, quello che cos'è? È una via. Si tengono accese in giro per casa come buon auspicio. Di solito, dove le mettete? Una in cucina, una in camera da letto, una in salone e due di fuori. Wow, mi piacciono davvero tanto. Si fanno decorazioni con i rangoli. Il rangoli è una sorta di opera d'arte, ma in genere si fa con le candele e con la farina colorata. Si mette sempre per terra all'ingresso per dare il benvenuto alla buona sorte. Curiosità. Il rangoli più grande che sia mai stato creato al mondo era enorme. Addirittura di quasi 40.000 metri quadrati. Quasi quanto sette campi da football. Davvero? Wow, deve essere stato davvero gigantesco. Il campo da football della scuola è... sette per cinquecento metri. Aggiungo due zeri, viene tre mila cinquecento metri. Cosa si dice come augurio tra parenti? Durante la festa del Diwali? Si dice... Shoo Diwali! Che significa buon Diwali? Uno, due, tre... Buon Diwali! Che significa buon Diwali! Che significa buon Diwali! Che significa buon eh?